E' Simba Rampollo, partione Bruno Daniele Ricordiamo che questa mattina ha sognato il miglior tempo e ricordiamo ancora una volta che il numero del pilota in gara è il numero 19, 1-9 per Bruno Daniele Quattordicesima Gincana, città di Salichelle e Salentino Avviso ai commissari, il numero in gara è il numero 19 La prova del CGP 2014 Organizzano Matteo Marzio, Andrea Corrisi, Berto De Donno Si ringrazia il sindaco Pietro Epifani e tutta l'amministrazione comunale Si ringrazia l'assessore Alessandro Tamburrino Rimpista con il numero 19, Bruno Daniele sulla sua 128 Tutti i piloti del team Rampollo Fatevi rientro per lui e veloce Scicano Cosmari Auto Commercio autoveicoli a San Michele Salentino Si ringrazia l'assessore Alessandro Leo Ricambi, ricambi autoveicoli a San Michele Salentino Velocità di Salice della 128 del numero 19, Bruno Daniele, 1-28 e 90